La morte conclude ogni sfida. Si è fatta la sua volontà. Forse Liu Kang si sbagliava su di te. O forse percepiva come me che i tuoi pensieri sono in conflitto. Kitana ha picchiato Smoke e Johnny Cage. Oi, questo non l'avevi previsto nelle tue allucinazioni? Qualcosa ti dice che le circostanze dovrebbero essere diverse. Che tu dovresti essere diversa. Sei molto più simile a Sindel che a Shaoka. Ma è morta. Mia madre è morta, sì. Ma perché tu... Kitana, meriti delle risposte. Posso aiutarti a trovarle se ti fidi di me. Alle fosse di carne di Shansung scoprirai molte cose. Le fosse di carne? Non mi ha consentito. Esattamente. Ma perché? Le fosse di carne. Non lo so. Dimmelo. Devi trovare la tua strada. Da sola. Devi fare tutto da sola, Kitana. Fai come ti ha detto Raiden. Abbiamo completato il 50% della modalità storia. Mi sa che c'è Jade a impedire a Kitana di avanzare. Manifestati, Jade. So che mi stai seguendo. Di nuovo. Ancora semmai. So dove stai andando. E ho ricevuto ordine di impedirtelo. E perché mai? Non discuto gli ordini dell'imperatore. Kitana, ti prego. Fermati. Fermati. Non posso. Potrebbe condurmi alla verità. Eh, non può fermarsi. Ma non ti permetterò di fermarmi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.